L'impressione di questo Draghi politico, tra virgolette, che abbiamo visto sia stamattina che appena adesso nella sua replica al Senato? Secondo me adesso nella replica più politico di quel che era stato il discorso di stamattina ha avuto anche l'accortezza, diciamo, ha risposto persino a singoli senatori come Gian Russo che ha fatto un discorso di 30 secondi per dire non ha citato la mafia e quindi io non lo voterò, eppure ha ripreso anche quello. Certamente è il suo esordio, devo dire è esordito stamattina con una citazione che fu l'ultima citazione che fece da governatore della Banca d'Italia. C'è una frase di Cavour su le riforme compiute a tempo che invece di debolire l'autorità la rafforzano. Lo disse nelle sue considerazioni finali del 2011, dandole come suggerimento alla politica sono passati dieci anni, nessuno ha colto quel suggerimento, evidentemente se è giunto a fare il politico la fa proprio lui. quindi evidentemente anche quello, la messa proprio all'inizio del discorso di stamattina ne dava l'impronta, però certo è stato molto politico in tutte le risposte, finalmente abbiamo visto anche un po' di pathos di uomo con quella battuta iniziale, scusatemi devo ancora imparare che l'ha un po' sciolto perché stamattina era più glaciale, era più algido ma era chiaramente teso e adesso quando c'è stato un problema con i due microfoni che erano...